Non può mancare sullo stand MV Agusta a EICMA 2018 la F4 Claudio, final edition della F4 di seconda generazione che rende omaggio al compianto Claudio Castiglioni e che fa della propria bellezza allo stato dell'arte e proprio marchio contraddistintivo. Tantissimi i particolari che conferiscono pregio a questa moto vediamo tutte le carene in fibra di carbonio a vista, tutti i riferimenti a Claudio Castiglioni come anche la replica della sua firma su alcuni elementi della carena, gli inserti in color oro e in nero all'interno appunto delle carenature, una moto che dal vivo si dimostra come lo è sempre stata la F4 molto compatta e che è omaggiata alle sue spalle da una lunga serie di edizioni limitate della F4 dal momento che quest'anno, il 2018, segna appunto il ventennale di questo modello ed è un ventennale che viene celebrato nel migliore dei modi, ovvero con una moto che ha lasciato il segno e che si propone a questo punto di cedere il passo alla terza generazione della F4 qui cede il testimone però con un'unità capace di 205 cavalli di potenza che crescono fino a 212 una volta montato il kit racing composto anche dagli scarichi doppi al di sotto del codino tra gli elementi di pregio di questa moto troviamo anche i cerchi in fibra di carbonio con finitura dorata, bellissimi a osservarsi dal vivo con disegno a 5 razze sdoppiato con una serie di soluzioni grafiche e di colorazioni riservate a questo modello sono proprio appunto dell'F4 Claudio il peso a secco di questa moto viene fermato a 183 kg quindi il cambio rimane di tipo estraibile ovviamente limitata la tiratura degli esemplari per l'epoca www.sdolness.it è iniziata per l'epoca la presenza per l'epoca per l'epoca per l'epoca per l'epoca Grazie a tutti